Ok, fantastico. Va bene, buonasera a tutti. Oggi sappiamo già cosa fare, dobbiamo risolvere questo esercizio. Se qualcuno l'ha risolto, gli cedo il posto volentieri. No? No perché non l'avete risolto, no perché non vi piace questo posto. Allora, io per accelerare un pochino le attività ho preparato, ho messo su GitHub pochi secondi fa, un progetto emergency che contiene tutto tranne la soluzione, cioè tranne la classe simulatore, che ci aiuta diciamo così a sviluppare un pochino più rapidamente, evitando di spendere tempo nel codificare le parti banali. In realtà se guardate bene, ma non guardate, c'è un branch che si chiama soluzione, dove c'è proprio anche già una soluzione, ma mi piacerebbe costruirla insieme a voi piuttosto che andare a sbirciarla. L'ho messa lì come paracadute di salvezza, ma ci fidiamo di essere in grado di risolverlo. Ok? Allora, mentre, non guardate questo branch, non c'è, possiamo prenderci questo progetto importandolo da git, emergency.git, o se lo volete clonare per poterci giocare prima, anzi che fare il clon del mio, ovviamente potete farlo. Se siete onesti e onesti fate il console del master, se no va bene lo stesso, lo ricostruiamo. Ok, e quindi abbiamo questo progetto, fatemi chiudere tutto, emergency, che contiene, diciamo così, lo scheletro di partenza. Contiene una classe main che istante il simulatore e lo fa partire e contiene all'interno del model le classi di partenza, i bing con cui lavorare. Allora, andiamo un attimo a rinfrescare la memoria, riprendendo che cosa deve fare questo simulatore. Questo simulatore, dicevamo, facendolo a breve perché ne abbiamo già discusso un po' ieri. Deve simulare il flusso di pazienti all'interno di un pronto soccorso. Pazienti che svolgono un periodo normalmente di attesa, in una sala d'attesa e questa attesa viene governata da un codice di severità, di gravità della loro patologia e questo codice di gravità viene assegnato al momento del triage, cioè al momento dell'arrivo istantaneo all'interno del pronto soccorso. Quindi arriva, mi viene assegnato un codice e vengo messo in attesa. In attesa perché? Perché ho un certo numero finito di studi NS che potrebbero essere tutti occupati. Se ce ne fosse uno libero potrei entrare subito, ma se sono tutti occupati devo mettermi in attesa e verrò chiamato dentro lo studio solamente quando uno studio si libererà e io sarò il primo in fila. Quindi questo era a grandi linee il comportamento del sistema. Abbiamo visto che ci sono questi quattro livelli di gravità, bianco, giallo, rosso e nero e l'evoluzione della persona fa sì che ci siano dei time out che fanno sì che la persona per il semplice fatto di essere in attesa cambia la propria situazione. Se sono in attesa da troppo tempo ma sono un codice bianco mi stufo e vado a casa. Se sono in attesa da troppo tempo e sono un codice giallo diventa un codice rosso e così via il codice rosso diventa un codice nero. Quindi sono eventi diversi che possono succedere. Poi abbiamo queste tabelline con dei dati relativi alla durata presunta di trattamento di un paziente con codice bianco, con codice giallo, con codice rosso, che è il tempo per cui quel paziente, quel tipo di paziente tiene occupato uno degli studi. Viceversa i time out di cui parlavamo prima, dove ce li ho scritti? Boh, non l'ho scritta da sua parte. Quindi questa qua era, diciamo così, vista da alto livello un pochino la struttura che ci immaginiamo. Questo paziente arriva, passa dal triage, entra normalmente in lista d'attesa, poi riesce finalmente a uscire dalla lista d'attesa, viene svistato uno degli studi e poi va a casa. Ma questo modello qui non è abbastanza dettagliato, non ci fa capire tutti i dettagli di ciò che possono succedere nei vari casi. Allora per questo avevo, ieri ci eravamo lasciati su questa figura, provato a pensare, a dettagliare che cosa succede al paziente. Allora questa rappresentazione, ciò che succede al paziente è un pezzo di quello che ieri abbiamo chiamato il modello del mondo. Se io fotografo il sistema, cosa vedo? Vedo dei pazienti in attesa o dei pazienti ancora da guardare, cioè ancora in triage, dei pazienti in cura, cioè sono presso uno degli studi o dei pazienti che sono già usciti in un modo o nell'altro dallo studio, dal pronto soccorso. Quindi vedo una serie di pazienti e di ciascuno so in che stato si trova, in che condizione si trova. Nel caso delle auto, nell'esercizio di ieri, era molto più semplice, perché un'auto potrebbe essere solamente in deposito oppure fuori. Allora non abbiamo dovuto complicarci la vita. Per sapere, poiché gli stati erano solamente due, basta contare quanti sono in deposito e per differenza trovo quali sono fuori. Fine. Qua è più complicato. Se so quanta gente c'è in distrattesa, non mi permette automaticamente di capire quanta gente è morta. Devo tenere traccia in dettaglio. Allora questo è un modo possibile quello di tracciare l'evoluzione dello stato del sistema, o meglio, dello stato di un componente particolare del sistema che è il paziente. E allora cosa capita? Che capita che il paziente, ho usato la parola stato, stato è una parola che uso per indicare il presente. Adesso com'è? Qualunque paziente subisce in qualche modo, o dobbiamo gestire, rappresentare delle transizioni di stato. Adesso è appena arrivato, tra un attimo gli sarà assegnato il codice bianco, avrà terminato l'operazione di triage. Poi se ha il codice bianco è semplicemente in lista d'attesa, poi qualcuno gli dirà, guarda che c'è uno studio libero, tocca a te. C'è uno studio medico libero e quindi puoi andare. Quindi queste frecce indicano le possibili transizioni, modifiche, cambiamenti di stato che il paziente può avere. Ecco, i motivi delle frecce sono gli eventi, sono i tipi di eventi. Cos'è che può far cambiare stato? Noi siamo in una simulazione discreta, quindi lo stato è una variabile. La variabile cambia solamente in un certo istante, a causa di qualche evento che si è verificato. Quali sono i tipi di eventi che si possono verificare? Sono quelli che fanno cambiare stato in vari modi diversi al mio utente. In questo grafico ho identificato tre tipi di eventi che fanno cambiare stato. Poi a seconda delle condizioni, di qual è lo stato corrente, di quanto tempo è in attesa, quel tipo di evento si comporta in modo diverso e qui dovremo poi andarlo a programmare. Però sicuramente c'è l'evento che ho chiamato triage, cioè tu esci dal triage e ti viene segnato il codice. L'evento di ingresso non lo segno, perché in realtà non è un evento, è il fatto stesso che tu vieni creato come oggetto e cominci ad esistere. Poi da quando esisti, quando è che cambierai stato? Quando finisco il triage e mi danno l'etichetta. Quindi queste tre frecce, 1, 2, 3, sono tre modi diversi di eseguire il triage. Cioè un paziente nuovo, appena creo un paziente, gli devo schedulare, ho scoperto come si dice in italiano, pianificare un evento nel futuro, cioè guarda che tu tra 5 minuti ti verrà assegnato il codice. 5 minuti se non sbaglio della durata del triage. E questo codice può essere bianco, giallo o rosso. Il testo non ci dice nulla, allora magari il simulatore simula stocasticamente un po' di codici bianchi, un po' di giallo e un po' di rossi. E questo è un tipo di evento. Poi c'è l'altro evento che qua ho chiamato free studio. L'evento free studio è l'evento in cui per qualche motivo un paziente, non per qualche motivo, un paziente viene curato, viene dimesso, curato non è detto, ma perlomeno viene dimesso dallo studio. Quindi quello studio si libera, uno degli studi, dei 3, 4, 5 studi che ci sono, si libera. Se lo studio si libera avrò in realtà due cose che avvengono contemporaneamente. Una è che il paziente che era in trattamento viene mandato fuori e l'altra è che un altro paziente che era in lista d'attesa viene portato dentro. Quindi all'evento si libera lo studio, ci sono due pazienti diversi i quali entrambi cambiano stato. Noi possiamo modellarlo così perché io per economia ho chiamato un evento solo free studio. Potremmo invece pensare due eventi diversi, distinti, uno è lo paziente esce e l'altro paziente entra. Allora cosa vuol dire? Che quando lo studio si libera e il paziente esce, schedulo dopo un minuto o dopo 0 minuti un altro evento, il paziente entra e a questo punto vado a gestire quale paziente entra. Quindi la finezza, la granularità degli eventi e degli stati un po' la decido anch'io, non è predefinita, non è questa l'unica soluzione possibile. Poi c'è il terzo tipo di evento che ho modellato qua che è quello di time out. Quindi free studio rende conto di queste 3 frecce, da bianco a treating, da giallo a treating, da rosso a treating e da treating out, 3 più 1 frecce. Le 3 frecce rimanenti, da waiting a out, vado a casa, da giallo a rosso e da rosso a nero, sono invece legate all'evento time out, cioè quel paziente è rimasto in attesa più di un certo tempo e quindi cambia stato pur non essendo chiamato all'interno dello studio. Quindi io quando sono in lista d'attesa posso cambiare stato per due motivi, o perché vengo chiamato o perché scatto a un certo tempo, dopodiché a seconda dello stato in cui ero, peggioro, vado a casa o muoio. Sono tre possibilità. Ok, allora io sulla base di questa figura e sulla base dello scheletro di simulatore che abbiamo visto insieme ieri ho predisposto le classi semplici, che sono essenzialmente una classe evento, una classe paziente e poi la classe simulatore all'interno della quale lavoreremo. Allora la classe paziente rappresenta una parte, dicevamo, del modello del mondo, non ci basta fare come la prima volta, contare solo il numero di auto in deposito. Dobbiamo, avere informazioni su ogni singolo paziente, anche molto più semplici rispetto ad avere 27 variabili diverse che dicono quanti pazienti sono in lista d'attesa ma sono gialli, quanti pazienti sono dentro studio 1, ci incasiniamo. Abbiamo degli oggetti, usiamo degli oggetti e non dei mari di variabili intere. Quindi ho definito un oggetto paziente che contenesse il nome del paziente e poi delle informazioni che mi permettessero di gestire la lista d'attesa. La lista d'attesa non è la cosa degli eventi, la cosa degli eventi io quando succede qualcosa posso schedulare l'evento successivo ma so già quando verrà l'evento successivo e quindi so già quando uscirò da quella cosa in certo senso. In lista d'attesa non lo so, io so che entro adesso ma nel momento in cui entro in lista d'attesa nella sala d'aspetto non so quando verrò chiamato, nessuno può saperlo perché dipende anche da quali altre persone arriveranno nel frattempo. Quindi è una lista separata da cui si entra quando esci dal triage e si esce quando qualcun altro uscirà da uno studio e tu sarai il primo in lista. Allora il paziente ha le informazioni che permettono alla gestione della lista d'attesa di sapere quando è ora di chiamare lui piuttosto che quell'altro. E quali sono le informazioni? Allora devo sapere se il paziente in che gravità ha, quindi sicuramente chiamerò prima un paziente rosso di uno bianco e a parità di gravità il tempo d'attesa, chi è arrivato prima. Tra tutti i codici rossi chi è arrivato prima? Allora oltre al nome del paziente ho aggiunto queste due altre variabili, lo stato e nello stato l'ho rappresentato anche qui con un'enumerazione che sia esattamente, ho copiato gli stati del disegno, nuovo, bianco, giallo, rosso, nero, in trattamento, cioè in cura e out. Sono esattamente questi, 3, 3, 6 e 1, 7. Sono questi 7 stati qua. Quindi abbiamo detto che il paziente può essere in una di queste 7 condizioni, programmaticamente cosa vuol dire? Vuol dire che il paziente avrà una variabile di stato che può assumere uno di questi 7 valori, né più né meno. E poi però mi interessa, ho aggiunto un attributo Qtime, potevo metterlo in una mappa da qualche altra parte, mi veniva comodo metterlo qua, che si ricorda solamente nel caso in cui il paziente sia in coda, quando è entrato, l'istante di ingresso nella coda. Dopodiché questa classe non ha niente di interessante, costruttore, get set, hash code basato sul nome, name, equals basati sul nome e basta, vento string di dovere e cose varie. Niente di speciale. Mi serve per distinguere un paziente dall'altro essenzialmente. Poi ho la classe evento, che è quella su cui girerà la coda degli eventi, quindi avrò il paziente che girerà nella lista d'attesa o perlomeno in una fase del suo ciclo gira nella lista d'attesa, perché in altre fasi magari in treating, in out, allora non è nella lista d'attesa, è nella lista d'attesa solamente quando è in uno di quei tre stati centrali, giallo, verde e rosso. Sì, giallo, giallo, verde, no, bianco, verde e rosso. Bianco, giallo e rosso, bravo. Evento? Evento è quello che gestisce l'evoluzione del tempo, quindi quali tipi di eventi ci sono? Dalla figurina abbiamo visto che le frecce di transizione di Stato le abbiamo divise in tre categorie, transizione di Stato perché ho finito il triage, perché è passato un timeout o perché uno studio si è liberato. E quindi ho tre tipi di eventi, l'event type è uno di questi tre. L'evento che cosa ha? Beh, ha i due attributi fondamentali che sono l'istante di tempo in cui avviene l'evento e il tipo di evento. In più in questo caso aggiungo un altro attributo che è il paziente coinvolto. È uscito dal triage, chi? Quale paziente? Perché poi quando devo andare a rifescare devo ricordarmi chi era. Quindi ogni volta che aggiungo un evento alla lista d'attesa che corrisponde alla transizione di Stato di un paziente, mi salvo anche di quale paziente stiamo parlando. Un riferimento all'oggetto paziente. Quindi le due liste, la lista degli eventi in qualche modo ha anche le informazioni che vanno a pescare nell'elenco dei pazienti. Al di là di questo, di nuovo questa classe non ha nulla da dire, non c'è niente tra l'inghietta e le sette, queste cose qua. Quindi sono due oggetti semplici. Il lavoro lo fa il simulatore ovviamente. La classe simulatore l'ho progettata provando a seguire le istruzioni che ci siamo dati ieri. Abbiamo detto quali sono i parametri della simulazione? Vado a rileggere il slide e dico la simulazione dipende dal numero di studi medici. Poi c'è tutta una serie di parametrini che dicono quanto dura l'operazione di triage, 5 minuti, quanto dura la cura, il trattamento di un paziente con codice bianco, 10 minuti e così via. E quanto sono i time out? Questa è la misura della pazienza o della velocità di aggravamento del paziente. Questi valori qui non c'erano nelle slide, me li sono inventati perché un numero dovevo metterlo per forza. Quindi ho detto la pazienza di un codice bianco è di 30 minuti, un codice giallo può aspettare fino a 30 minuti, poi si aggrava, diventa un codice rosso e un codice rosso può aspettare fino a 60 minuti prima di morire. E questi sono i parametri, dove questo è un vero parametro di dimensionamento del sistema, questi altri sono parametri di tuning su cui si può ovviamente giocare, che hanno un loro valore di default. Poi abbiamo detto il modello del mondo, allora questo sistema è fatto di due cose, medici e pazienti. Del medico non parliamo mai, lo diamo per scontato che nello studio medico ci sia il medico. Allo studio medici sappiamo quanti ce ne sono in tutto, dobbiamo tenere traccia di quanti sono occupati. In questo caso me la sono cavata tenendo conto di una variabile intera che dice quanti studi sono occupati. in un modello più complicato io potrei avere qua una lista di studi, quindi avere un oggetto studio, per un millisecondo sono anche stato tentato di farlo, quell'oggetto, poi ho detto ma non mi serve alla fine, quindi non lo faccio. Un oggetto studio, quindi studio 1, studio 2, studio 3 in una lista e poi lo studio sa che il paziente ha dentro, ma poi non mi serviva, allora non l'ho fatto. Quindi cerchiamo di modellare il mondo ma senza complicarci la vita inutilmente. Quindi in questo caso l'unica cosa che mi serviva ai fini della simulazione è sapere quanti studi sono libri e quanti sono occupati. Perché il paziente lo devo modellare e il studio no? Ma perché gli studi sono indistinguibili tra di loro, non hanno nessuna caratteristica speciale. Ci fosse uno studio che è dedicato ai codici rossi e un altro invece che gestisce le cose meno gravi, allora sì che dovrei distinguerli. Come andate alla posta c'è lo sportello che fa le raccomandate, quello che fa i bollettini, allora non sono tutti uguali, non ti interessa sapere se ce n'è uno libero o no, deve essere libero proprio quello del tuo tipo. Allora in quel caso dovrei modellare anche un oggetto studio, capire di che tipologie ci sono e quali pazienti possono andarci. In questo caso il testo non parlava di questo e quindi pensiamo che siano tutti equivalenti e quindi l'importante è sapere se ce n'è uno libero oppure no. Quindi quanti degli NS e studi sono attualmente occupati. Mentre invece per quanto riguarda i pazienti mi interessa essenzialmente avere un'area in cui parcheggiare tutti i pazienti che sono in attesa, un'area in cui sia facile capire qual è il prossimo paziente che deve uscire, cioè il numeretto che gli do o qualcosa del genere. Allora anche qua ragionandoci mi sembrava che la coda prioritaria fosse la struttura dati adatta, fosse la struttura dati adatta a gestire questa informazione. Perché ci metto dentro il paziente in qualunque momento e quando lo estraggo mi estrarrà sempre quello che ha la precedenza maggiore, dove questa volta la precedenza è una combinazione di codice e tempo d'arrivo. Quindi il confronto, l'operazione di ordine in questa coda è un pochino più complicata del solito. Questo rappresenta il nostro mondo, i pazienti e gli studi. Poi abbiamo le misure di interesse che sono i valori che vogliamo ricavare, questi erano scritti sulle slide, dicevo vuoi sapere il numero di pazienti che hai dimesso, il numero di pazienti che se ne sono andati e quanti sono morti, e quindi sono queste tre variabili qua. E poi abbiamo la nostra cara coda degli eventi, che c'è sempre. Il costruttore che cosa fa? Inizializza la coda degli eventi vuota e inizializza la sala d'attesa vuota. Passandogli a questa coda prioritaria un comparatore, una classe comparatore che ho progettato per gestire la priorità dei pazienti, anziché dare l'ordinamento naturale, quindi avere il paziente che fosse comparable e quindi avesse un metodo compare to, che mi sembrava strano, perché avere quel tipo di compare to sul paziente, perché magari la classe paziente la potevo usare anche in altri contesti che non fosse la lista d'attesa, allora ho pensato di creare una classe comparatore da usare solamente in questa priorità di list. Sapete che per mettere in ordine gli oggetti o l'oggetto è implements comparable, quindi esso stesso ha un metodo compare to, oppure alla struttura dati passiamo a un oggetto comparator, che implementa l'interfaccia comparator e quindi in questo caso la coda prioritaria userà il metodo di confronto compare del comparatore e non userà il metodo compare to dell'oggetto comparabile. Lo so che non so di lingua, ma l'ho fatto così. Allora il metodo compare confronta due oggetti di ipopaziente, oggetto 1 e oggetto 2, e qui c'è un po' di ginnastica, di IF e cose del genere, innanzitutto controllo, innanzitutto mi rendo conto che questo comparatore ha senso solamente se i pazienti sono entrambi in lista d'attesa, cioè dei 7 stati in cui i pazienti possono essere, ha senso solamente se sono in uno di questi 3. Se mi chiedo, ma viene prima un paziente in triti o un paziente black? Non ha senso la domanda, no? Allora quello che faccio io è controllare se i pazienti, sia l'1 che il 2, sono nello stato white oppure yellow oppure red, altrimenti generano un'eccezione del tipo, beh, illegal state, illegal argument exception, cioè non posso confrontarlo questo. Non tutti i pazienti li possono confrontare solo se sono in lista d'attesa e quindi hanno un codice colore associato. Dimmi. Certo, infatti lui dice che i pazienti che sono nella coda di sicuro, dice lui, avranno uno di questi stati perché li abbiamo messi noi dentro quando li abbiamo segnato il triage. certo, infatti questo serve per gestire dei bachi. Se ci siamo sbagliati, abbiamo messo nella coda un paziente sbagliato oppure cerchiamo di estrarlo quando il codice è sbagliato, qua generano le eccezioni, mi blocca il programma e vado a correggere l'errore. Le eccezioni sono eccezioni, cioè non devono capitare. Se noi le andiamo a catturare è per andare a catturare un comportamento del programma che non è previsto. Solo che questo classico non si deve chiamare con oggetti che non siano in lista e gli oggetti che sono in lista d'attesa devono avere uno di questi tre stati. A parole siamo tutti d'accordo, poi nel codice magari ci scappa qualcosa. Ok, allora se gli oggetti sono giusti vado a gestire la priorità. Allora io ciò che dico è che se lo stato, cioè il codice di severità è lo stesso, di 1 e di 2, ciò che vale è il tempo d'arrivo. Conta chi è arrivato prima, perché avete lo stesso codice. Qualunque sia questo codice. Non sto chiedendo chi è il primo, mi stanno dando due pazienti e mi stanno chiedendo, quindi tra questi due chi dovrebbe passare per prima. Poi magari c'è un altro che passa 6 ore prima, ma non mi interessa, non interessa il comparator. Poi se invece non hanno lo stesso codice, colore, avranno colori diversi. Allora avranno colori diversi, io qua se vogliamo un approccio abbastanza brutale, se 1 è rosso allora deve passare lui, perché se l'1 è rosso e so che il 2 è diverso dall'1, perché se fossero uguali sarei andato a finire sopra, allora il 2 è o giallo o bianco e allora deve passare l'1. Passare l'1 che è il primo devo restituire un numero negativo, altrimenti vado a vedere il 2, se invece il 2 è rosso stesso ragionamento vuol dire che l'1 sarà o giallo o bianco e quindi deve passare il 2 e restituire un numero positivo. Se no vuol dire che nessuno dei due è rosso e per esclusione uno è giallo e l'altro è bianco, perché i colori sono diversi, perché se fossero uguali sarei andato là. Allora se è giallo il primo, di sicuro il secondo sarà bianco e passa il primo, se invece il primo è bianco allora di sicuro giallo sarà il secondo e passa il secondo e infatti questo else anche qua non ci devo mai arrivare, mai. Quindi passato il mal di testa di sta roba abbiamo un comparatore che ci permette di dire chi è il prossimo in fila. In teoria sono 9 casi possibili, sono 3 codici colori per ciascuno dei due pazienti, ma molte delle combinazioni sono comuni, soprattutto con questo qua e se uno è uguale a 2 ci siamo già tolti 3 casi in un botto solo. Ok, chiudiamo questa classe che ci fa la nausea. Adesso non rimane che, ma io l'ho scelto di metri vuoti, l'unico altro metodo che è implementato qua è il metodo RUN, tanto per ribadire che alla fine il metodo principale del simulatore fa sempre la stessa cosa. Uno alla volta estrae gli eventi dalla lista e a seconda del tipo di evento lo elabora. Allora visto che qua il lavoro da fare sarà più complicato, volevo evitare di avere un metodo troppo lungo e allora ho chiamato 3 sottometodi, elaboro l'evento di triage, elaboro l'evento di time out e elaboro l'evento di studio libero. In 3 metodi sotto, che sono tutti belli qua in ordine, vuoti, che dobbiamo riempire. Così come dobbiamo riempire un metodo per caricare la lista, che aggiunge un nuovo paziente a un determinato istante di tempo, quindi arriva il paziente tal dei tali ad un certo istante di tempo. Quindi questa è la nostra situazione di partenza, è tutto pronto tranne ciò che conta. Un metodo dopo l'altro proviamo a implementarli. Il più facile, lo facciamo subito, arriva un nuovo paziente. paziente. Arriva un nuovo paziente, cosa devo fare? Innanzitutto se arriva nuovo, devo assegnargli lo stato new e devo prevedere che tra 5 minuti gli verrà assegnato un codice di colore, perché avrà terminato il triage. Ok? Quindi, come prima cosa gli assegno il codice colore, set status di passion status.new, io non so l'oggetto patient, il mio main come me l'ha creato, ma di sicuro il mio main non si preoccupa dei miei status interni, io lo voglio, posso essere sicuro che sia new quando entra lì. E poi, schedulo un evento per quando questo paziente uscirà dal triage. Quindi, creo un evento e, allora, la classe event richiede 3 parametri, come costruttore, il paziente, a cui si fa riferimento questo evento, il tempo a cui l'evento scatta e il tipo di evento, chiaramente. Allora, il paziente è il nostro paziente che abbiamo appena letto, l'istante di tempo quando è? Non è adesso, l'adesso è l'arrivo del paziente. Adesso più il tempo di triage. Quindi più la durata del triage. E in questo istante di tempo, cioè adesso più la durata del triage, cosa succede? Succede che, fatemelo dire in una parola non italiana, il paziente viene triagiato, cioè alla fine ha il suo codice. Quindi sarà un event type, punto, di dei tre tipi di eventi, l'evento triage è quello che ci interessa. Questo evento, quindi questo paziente tra 5 minuti, o meglio 5 minuti dopo il tempo di ingresso, viene, gli viene affidato un codice, scheduliamo l'evento, coda, add, di e. Ops, adesso non è andato. Ho fatto. Ho qua. Ok? Ok? E questo, quando popola la coda, lei si popola di persone che sono, praticamente, compariranno solamente quando il triage darà un risponso. Allora, cominciamo a trattare tra i vari tipi di eventi, quindi finora abbiamo inserito nella coda solamente eventi tipo triage. Quindi, andiamo in ordine, andiamo a vedere, process triage event, cosa dovremo fare quando l'evento triage verrà estratto dalla coda. Il simulatore gira a un certo punto e dice, ah, tizio, una certa paziente, P, chiamiamolo P, non tizio, come faccio a sapere chi è? Beh, c'è scritto nell'evento, il paziente P ha finito il triage. Quindi, cosa devo fare? Devo assegnare un codice. Con che criterio? Random? Non abbiamo altre informazioni, mettiamolo a caso. Qui ci sarebbe un mondo da aprire, le statistiche. Ma a scopo di simulazione, prendiamolo uno a caso tra bianco, giallo e rosso. Poi, dopo che gli ho assegnato un codice, se c'è uno studio libero, lo mando in cura. Se no, lo metto in lista d'attesa. Giusto? Allora, abbiamo questi tre blocchi da fare ogni volta che un paziente esce dal triage. Allora, assegnare il codice random significa trovare un numero random tra 1 e 3. e a seconda del valore del numero settiamo lo stato di quell'utente a uno dei tre livelli di priorità. Allora, noi sappiamo, dovremmo essere sicuri, volendolo potremmo controllare, che adesso lo stato del paziente p.getStatus è new. Perché è l'unico stato da cui si può generare l'evento triage. Adesso vogliamo impostare il nuovo stato. Quindi se rand uguale a 1, sto per scrivere codici di cui mi vergogno, p.setStatus.white. else infrand uguale a 2 yellow else se è 3 red schifuolo sto codice, però fa altro lavoro. Adesso gli ho dato un codice. C'è uno studio libero? Vediamo subito. Se c'è uno studio libero, come faccio? Lo saperlo. Se gli occupati sono minori dei numeri di studi disponibili. Allora lo mando in cura. Altrimenti lo devo mettere in lista d'attesa. Mandarlo in cura cosa significa? Beh, significa innanzitutto dire che adesso sto occupando uno studio perché ci ho mandato una persona. Impostare lo stato di questa persona a treating e non più a red, white e yellow e impostare il tempo di uscita di quella persona, che quella persona a questo punto, visto che l'ho mandata subito in studio, poi uscirà. Quindi quanto sta lì dentro quella persona? Allora, innanzitutto devo sapere quanto sta lì dentro. inseriamo qualcosa e diciamo se p.getStatus uguale patientStatus punto white allora duration sarà duration white per no bon as if if getStatus uguale yellow è la stessa cosa per il red è la stessa cosa per il red queste cose qua già non mi piacciono tanto, non dovesse fare sempre tutti questi if perché non mi piacciono tanto? Non funziona, no funziona non è un problema di funzionalità, è il problema che io comincio ad aver male, ad immaginare che uno domani dovrebbe dire, mi venga a dire ma guarda che hai tenuto conto che i bambini al di sotto di 14 anni hanno un codice speciale e li passano prima cosa che è così ospedali li chiamano codice azzurro, codice argento e allora tu pensa in quanti posti vai a toccare, devi andare a toccare il codice se devi aggiungere un nuovo tipo di severità e in quanti posti ti dimenticherai di toccare allora, adesso stiamo cercando di risolverlo e quindi concentriamoci sulla risoluzione del problema normalmente, operativamente cosa si fa? Si fa una risoluzione vedo che dal punto di vista dell'algoritmo sia corretta e poi faccio operazioni di rifattorizzazione cioè modifico qualche cosa localmente per renderlo migliore, per renderlo più diciamo così anche robusto rispetto a eventuali evoluzioni future però non possiamo ottimizzare o pensare a tutto contemporaneamente adesso l'abbiamo impostato così, ci stiamo accorgendo che forse avere questi tre stati diversi non era l'idea proprio furba, era meglio avere uno stato lista d'attesa e poi un'altra variabile che mi dicesse il numero quest'altra variabile la potevo mettere in una mappa, potevo mettere in un indice potevo fare tante belle cose, ma non l'ho fatto pazienza, magari lo facciamo in una versione successiva adesso non possiamo bloccarci e ricominciare da capo purtroppo operativamente a volte si deve anche procedere così allora, questo grosso codice mi serve per calcolare quando quel paziente uscirà uscirà da dove? Dallo studio in cui l'ho mandato allora lo studio lo devo occupare ci devo mettere il paziente dentro dicendo che adesso caro paziente tu sei in trattamento non sei più un listra attesa con codice X e aggiungo nella coda un nuovo evento in cui tu paziente al tempo attuale più la durata che dipende dal codice che avevi uscirai e quindi libererai lo studio noi siamo contenti che tu sia guarito ma siamo ancora più contenti che hai liberato lo studio quindi lo chiamiamo così l'evento allora, trattare un paziente significa questo tener conto che lui adesso sta occupando uno studio in più e abbiamo verificato prima che ce ne fossero di liberi e prevedere l'orario di uscita e in questo caso lo prevediamo in funzione del codice di gravità che aveva all'ingresso al triage e ricordarci a livello di stato cosa abbiamo fatto dire al paziente che ha cambiato stato quindi in questo caso stiamo gestendo un evento triage e ne stiamo generando uno nuovo uscita dallo studio se no, lista d'attesa allora, lo metto in lista d'attesa vuol dire che gli studi sono tutti occupati allora è più facile il codice che gli ho già dato di gravità qua semplicemente lo metto in una lista d'attesa e schedulo l'evento di timeout a seconda del codice che avevi avrai un timeout diverso allo scattare del quale succederà qualcosa quindi anche qua dovrò in questo caso lo metto in lista d'attesa e schedulo l'azione di timeout allora, l'azione di timeout facciamo come abbiamo fatto qua facciamo copia e incolla un altro sintomo è il fatto che questo codice non è organizzato al meglio non si che durisce lo chiamo timeout così mi ricordo cos'è anziché duration wide le chiamo white mi sembra che si chiamasse eh, questa roba white timeout eccolo qua yellow timeout red timeout questa roba grida mettimi in una lista quindi mi predispongo il tempo entro il quale devo intervenire non so invece qual è il tempo se no lo farei già subito entro il quale lui verrà potrà entrare nello studio non lo so e quindi non posso farci nulla l'unica cosa che posso fare è dire ti metto in lista d'attesa quindi entra nella waiting room caro paziente caro paziente caro paziente P e lui ci sta entrando con lo stato di colore che gli abbiamo dato no, devo anche fare il tempo di ingresso no, ricordate che il paziente aveva anche un campo che diceva che ora sei entrato in lista d'attesa allora prima di metterti in lista d'attesa dico che sei entrato nel momento del triage no, qui stiamo ancora elaborando l'evento triage quindi e.gettime triage.gettime è il tuo tempo di ingresso nella lista d'attesa nella sala d'attesa e quindi ti metto nella lista sulla base del codice di colore che gli hai segnato e del tempo di ingresso questa operazione di add ti infila nella posizione giusta nella coda la posizione giusta sulla base delle persone che già ci sono poi le persone che successivamente arriveranno potranno posizionarti davanti a te o dietro di te a seconda del loro codice colore errore da non fare è questo che stavo per fare cioè impostare il time dopo aver aggiunto l'oggetto nella lista ti dici ma cosa cambia? perché alla fine è una proprietà di p in generale non cambia niente nello specifico questa proprietà time viene usata dal comparator per decidere in che ordine vanno messi gli elementi allora ricordiamoci sempre che nelle code prioritarie la comparazione viene fatta al momento dell'aggiunta del lad non del pol non dell'estrazione quindi io quando aggiungo un elemento deve avere i valori del campo o dei campi su cui fare confronto devono essere validi se li cambio dopo va tutto a pallino nel senso che lui lo inserisce nella lista tenendo conto del valore che aveva prima ma se poi lo cambio uno dei valori comparabili cioè che vengono dati nel comparatore dopo che l'elemento è stato aggiunto in una cosa prioritaria la cosa prioritaria non se ne accorge non può accorgersene l'ho cambiato sotto il naso un valore e quindi mi estrarrà poi l'oggetto nel momento sbagliato nell'ordine sbagliato ricordiamocelo perché ne abbiamo bisogno anche dopo dimmi dimmi non avremmo potuto mettere direttamente in vista d'attesa e poi mettere tutti tutti quelli che passano dal triagio in vista d'attesa e poi vestire in vista d'attesa il caso in cui avessimo un studio libero per non fare anche quel controllo se non fare il controllo che abbiamo fatto prima sul su questo io le metto in vista d'attesa e poi se diventerà il primo della lista d'attesa il problema allora lui dice perché abbiamo dovuto fare un casino semplicemente dal triagio le mettiamo in vista d'attesa e se poi c'è un studio libero lo studio pescherà da quella lista d'attesa ok però non è un evento immagina all'inizio della simulazione anche io pensavo così poi comincia a scrivere cose e si dice all'inizio della simulazione cosa faccio ho persone che vanno dal triagio in vista d'attesa e ci rimarranno per sempre perché l'evento lo studio si libera è un evento che avviene nel momento in cui una persona che era dentro studio esce e allora ne chiamo una nuova dentro altrimenti come faccio a far partire il tutto gli studi sono vuoti avrei comunque un studio sarebbe zero occhio il studio sarebbe zero ma in ma l'evento free studio non c'è in lista ma come diamo lo stato con gli eventi io avrò tre studi liberi persone in lista d'attesa ma nella lista d'attesa deve esserci un evento che dice adesso c'è uno studio si è liberato questo evento free studio significa si è liberato è un evento non è uno stato e quindi può entrare una persona nuova io i primi se gli studi sono tre i primi tre come li faccio a entrare tutti gli altri dal quarto in poi sì non ho problemi perché esce uno e entra un altro e infatti dal quarto in poi andranno a finire tutti in lista d'attesa però i primi tre devo riuscire a farli entrare a forza quindi o genero a forza degli eventi free studio ma non so quando metterli come tempo perché a priori non so quando arriveranno i pazienti però comunque un caso particolare lo devo gestire poi lo si vede anche poi quando avremo a tracciare la stampa della simulazione immagina di non farlo e dici voi vedremo come facciamo a mettere dentro allora questo qua dovrebbe salvo errori concludere le operazioni che dobbiamo fare a fine triage dopo di che andiamo a vedere il livello d'azione successiva cioè quando la persona quando si libera uno studio e quindi possiamo chiamare la prossima persona dalla lista d'attesa quindi nel caso in cui un utente sia in lista d'attesa ah no aspetta non ho finito devo ancora aggiungere il timeout perché stavo contando gli eventi che genero a fronte di quelli che consumo e non mi quadrava allora c'è ancora l'evento di timeout per chi è stato messo in lista d'attesa quindi q.add new event di sempre la persona e sempre p quando scatta il timeout e.gettime più timeout che cosa fa il timeout vabbè l'evento di che evento si tratta eventite punto timeout quindi dal triage se c'è uno studio vuoto vai direttamente in studio escludiamo l'evento se hai curato se hai dimesso se gli studi sono occupati va in lista d'attesa e screditiamo l'evento timeout ok quindi ogni volta che elaboro un evento di tipo triage genero un evento o di tipo timeout o di tipo di missioni se generassi solo eventi di tipo timeout prima o poi la gente muore o va a casa ma nessuno andrebbe agli studi per fortuna qualcuno l'abbiamo inserito negli studi quindi i primi tre pazienti al mattino all'otto del mattino entreranno in studio e poi e poi usciranno e quando questi escono devo gestire il fatto che un paziente ha liberato lo studio e quindi devo chiamare il prossimo paziente quindi in questo free studio in questo evento ho due pazienti che devo gestire due oggetti paziente quello che esce e quello che entra nello studio allora facciamo separatamente i due momenti perché è stato chiamato questo evento perché un paziente che in precedenza era stato inserito nello studio adesso ha esaurito la duration della sua cura del tempo per cui il medico deve dedicarci allora come prima cosa lui lo libero lo mandiamolo a casa innanzitutto ne ho curato uno e questo è qualcosa pazienti curati più più lo mandiamo a casa prendiamolo come p così evitiamo di scriverlo cento volte patient p uguale e punto get patient il nostro caro p è out giusto? e si è liberato uno studio dobbiamo generare altri eventi per lui? no quindi paziente in uscita l'abbiamo sistemato l'abbiamo messo out in realtà ce ne dimentichiamo subito dopo però lo contiamo ne teniamo conto nelle statistiche e teniamo conto che lo studio è libero adesso devo chiamare il prossimo paziente c'è scritto qua se c'è chiamare il prossimo paziente da dove? dalla waiting room dalla sala d'attesa che può avere o non avere pazienti nuovi quindi chi è il prossimo dalla sala d'attesa questa tutta in java della frase chi è il prossimo in sala d'attesa se c'è qualcuno allora lo mando in studio questo paziente che ho chiamato Next che non è P P è quello che usciva Next è un altro che fino ad ora era in lista d'attesa in sala d'attesa e quindi vuol dire che questo studio che ho appena liberato lo rioccupo di nuovo lo rioccupo solo se ci sono persone non gli sta attesa ovviamente dico che il nostro paziente è in stato treating ma qui cosa sto facendo sto riscrivendo le stesse cose che avevo già scritto sotto questa parte qua cioè di quando lo mettevo nello studio quindi posso me lo concedete copiarlo e poi correggerlo perché non si chiama più P ma si chiama Next si chiama P ma si chiama Next quindi prima di cambiargli lo stato devo andare a leggere lo stato vecchio per definire la durata per cui lui rimarrà nello studio allora i Next diversano quindi se c'è il prossimo paziente chiedo qual è il suo stato e determino la durata per cui rimarrà dentro poi a questo punto cambio lo stato e dico che adesso tu sei in cura e aggiungo un nuovo evento in cui Next e appunto che time più duration free studio ok giusto hai visto che c'è un blocco di codice uguale magari poi quando mettiamo un po' di ordine al codice lo mettiamo in un metro da parte per evitare di fare coppie e incollare però logicamente ho fatto due operazioni separate ho fatto uscire una persona e ho fatto entrare un'altra persona le operazioni che faccio quando entra una nuova persona sono le stesse sia che entri all'uscita di uno precedente sia che entri perché è il primo al mattino e lo studio ancora vuoto è il primo al mattino oppure capita di presentarsi quando uno studio vuoto giusto? dove tutto è gestito da questa coda della lista d'attesa che mi dice qual è il prossimo paziente poi poi abbiamo finito in qualche modo se non ci fossero i timeout se il percorso fosse lineare triage codice cura e uscita avremmo finito adesso dobbiamo ancora gestire invece gli altri eventi timeout quando li abbiamo generati questi eventi timeout quando abbiamo inserito c'è solo un punto in cui aggiungiamo i timeout che è qua qua sotto quando una persona va a finire in lista d'attesa e allora vediamo cosa succede abbiamo un metodo da qualche parte process timeout qua quindi è scattato un timeout per un certo paziente le cose che devo fare quando scatto il timeout sono radicalmente diverse a seconda del codice di colore che avevi a seconda del codice di colore che avevo quindi e.p.get status devo fare allora se eri bianco allora abbandona se eri giallo allora diventa rosso se eri rosso allora nomori poi qua e Cripsi dice guarda che questa enumerazione get status ha tanti altri valori tu ne hai aggiunti solo tre ma lei ne aveva sette cosa devo fare negli altri casi e lui mi dice aggiungili tutti perché negli altri casi deve succedere qualcosa oppure no aggiungiamo un caldo di default che li comprenda tutti noi sappiamo che se capita un timeout è perché l'utente era in lista d'attesa e quindi aveva sicuramente uno di questi tre codici quindi se ha un codice che non è uno di questi c'è qualcosa che non va error come la chiamavo con l'eccezione interno l'error ecco mi piace interno l'error se per caso arrivo qua c'è qualcosa che non va interrompo il programma questo è il vantaggio di usare le numeri anziché i numeri che il compiatore è in grado di capire se abbiamo considerato tutti i casi ok ma adesso consideriamoli caso bianco paziente abbandona 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 vuol dire che devo toglierlo dalla lista d'attesa metterlo stato out e aggiornare il conteggio degli abbandoni e non generano più nessun evento perché ormai lui è uscito dal sistema quindi aggiorniamo la statistica sugli abbandoni aggiorniamo lo stato del paziente a out e poi attenzione che questo paziente adesso è nella waiting room devo toglierlo quindi la waiting room l'ho tolto dalla corda degli eventi perché è scattato il time out ma lui era seduto lì si alza se ne va allora lo devo togliere perché altrimenti prima o poi col poll lo estrarrò quel cliente quel paziente ma ormai se ne è già andato quindi waiting room punto remove dell'oggetto P questo remove è un'operazione pesante perché scandisce in modo lineare tutta la lista in quella corda prioritaria fino a quando non trova quell'oggetto specifico e lo cancella però facciamo raramente quindi e direi che non abbiamo bisogno di fare altro no? dalla lista la corda prioritaria l'abbiamo tolto dalla lista l'abbiamo tolto l'abbiamo contato e non rompe le scartole in la tua casa simile è il caso rosso perché anche qua se ne esce da un'altra porta ma sempre esce quindi in questo caso sono i pazienti morti che si incrementano set status questa volta sarà black e anche qua lo rimuovo dalla lista l'attesa alla fine faccio la stessa cosa no? il caso diverso invece è il caso giallo in cui devo cambiare codice diventare rosso significa innanzitutto cambiare lo status e poi settare un nuovo time out dei rossi perché da giallo diventa rosso adesso che è rosso comincia a contare il tempo del time out del rosso cambiare lo status di un oggetto che è dentro una coda prioritaria che lavora sul valore di quello status non si può fare o meglio si fa ma poi la coda prioritaria non si accorge che è cambiato lo status quindi devo toglierlo cambiare lo status e rimetterlo proprio perché la priorità viene calcolata solamente nel momento in cui faccio la add quindi dalla waiting room togliamo P cambiamo lo stato e facciamo diventare rosso e lo aggiungiamo di nuovo a P devo aggiornare anche il tempo d'arrivo no il tempo d'arrivo era quello in cui lui era entrato quando era giallo poi ha aspettato mezz'ora nel frattempo è diventato rosso ma non è che come se fosse rientrato solamente adesso tra i rossi è diventato nel gruppo dei rossi ma è già lì da mezz'ora fa quindi non vado a resettare il tempo d'arrivo il tempo d'arrivo mi conta il tempo totale è vero che l'ho tolto e l'ho rimesso ma è sempre lui altrimenti dovrei fare anche un set time per portare avanti l'orario d'arrivo poveretto è entrato giallo ma esce rosso e quindi a questo punto vado a schedulare il time out successivo da paziente rosso quindi q.add new event di p al tempo e.getTime più a questo punto non faccio nessun if è quello rosso quindi red time out virgola il tipo di evento event type punto time out punto virgola e forse abbiamo fatto tutto dovremmo anche cancellare il time out più giusto per memorare dalla costa di rete sì allora lui sta dicendo una cosa giusta che è cosa succede agli eventi time out di persone che non sono più in costa in liste d'attesa vediamolo facendolo girare il programma perché forse si capisce meglio infatti dobbiamo ancora ritoccare qualcosa allora avevamo tre tipi di eventi per ciascuno di tre tipi di eventi avevamo due o tre sotto casi e li abbiamo abbastanza gestiti uno per volta in ogni caso noi abbiamo sempre l'obbligo di dire nel nostro ragionamento come cambia il modello quindi numero di istanze occupate numero di istanze libere pazienti lo stato del paziente l'ora di ingresso eccetera coda della lista d'attesa questo è il modello del mondo come cambia e quali nuovi eventi futuri devo pianificare a seguito di ciò che ho fatto sono questi due lavori che devo fare ogni volta in ogni sotto caso in ogni casistica ok? allora se io faccio partire questo programma all'interno del quale avevo aggiunto 50 pazienti a caso allora io avevo aggiunto nel simulator una print dentro il metodo run se non sbaglio giusto per vedere cosa succedeva eccola qua che mi stampava gli eventi e quindi mi dice guarda il primo evento beh i primi eventi non saranno sempre di tipo triage poi a un certo punto eccolo qua qua a un certo tempo qui ciò che scrive è il nome del paziente li ho chiamati paziente 6 paziente 7 paziente 8 fino a paziente 49 che era in uno stato new a un certo punto l'evento triage me lo farà passare a un certo stato e poi vediamo che a questo tempo 1390 il paziente 1 che era in uno stato treating libera lo studio e quindi entrerà un altro paziente 2 libera lo studio paziente 0 che probabilmente aveva un codice più grave quindi era entrato prima ma uscirà dopo libera lo studio qui vediamo solamente gli eventi non abbiamo stampato niente quando aggiungevamo la coda eccetera eventualmente possiamo aggiungere ancora delle stampe per capire meglio e poi capitano dei time out vediamo un white che fa i time out quindi non sappiamo che andrà a casa vediamo uno yellow che fa i time out e quindi diventerà rosso e così via ci sono dei free studio poi a un certo punto c'è un'eccezione che dice stato paziente errato paziente 4 out nel gestire cosa? un evento di tipo time out noi avevamo detto ma l'evento time out deve capitare solamente quando l'utente è il paziente in uno di questi tre stati come fa a capitare un evento time out per un paziente che è nello stato out? può perché io quando ho entrato in lista d'attesa l'ho messo ho generato il time out poi lo studio era libero lui è andato in treating è stato curato ma l'evento time out era ancora lì la spalla di Damocle che aspettava di cadere ed è caduta nel momento sbagliato ovviamente quando esco dalla lista d'attesa i time out che avevo impostato non hanno più senso allora posso fare due cose la più giusta è quando estraggo dalla lista d'attesa quando è che estraggo dalla lista d'attesa in diversi punti principalmente dentro il free studio event quando chiamo il prossimo qua che forse solo qua allora lo estratto lo mando in treating qui dovrei eliminare i time out futuri dalla lista d'attesa dalla cosa degli eventi che non è banale come fare un remove perché io non so qual è l'evento associato al time out di quell'utente cioè devo andarmi a vedere uno per uno nella coda e trovare quello giusto e cancellarlo questa sarebbe la cosa giusta da fare per poterla fare in modo efficiente cosa dovrei fare dovrei avere dentro l'oggetto patient un riferimento all'event quindi quando aggiungo un evento che dentro ha un riferimento al paziente il paziente a sua volta avrà un riferimento all'evento così riesco a risalire facilmente altrimenti devo farmi una scansione lineare della coda poi c'è la cosa giusta da fare poi c'è la cosa veloce da fare che è dire sì è vero non deve succedere che capiti un time out quando non sono in questi tre stati però visto che non li cancelliamo questi maledetti time out qualche volta capiteranno nello stato sbagliato se capitano nello stato sbagliato li ignoriamo quindi nel caso in cui il time out capiti quando il paziente è out oppure nel caso in cui capiti quando lui è in treating time out arrivato troppo tardi non serve più ignoriamolo cioè non facciamo niente che non è elegante come cancellarli ma l'effetto netto è lo stesso quindi questo dovrebbe essere risolto il problema di scritturare degli eventi futuri è che noi stiamo facendo delle ipotesi su un possibile svolgimento del futuro se poi il futuro va in modo diverso devo capire se quell'ipotesi è ancora valida e quindi la lascio in coda oppure non è più valida la devo rimuovere oppure semplicemente ho il modo per accorgermi che non è più valida e quando la vedo la butto via allora a questo punto riproviamoci direi che eccezioni non ne ha più date e con questi dati abbiamo fatto un disastro abbiamo trattato 12 persone 15 hanno abbandonato e 23 sono morti la somma dovrebbe fare 50 sì riproviamo simulazioni diverse chiaramente questi dati sono ogni volta leggermente diversi perché l'elemento di randomicità ce l'abbiamo nella selezione del codice però insomma ogni giorno ne ammazziamo quasi la metà il che vuol dire che magari sai se spendessimo qualche soldo in più avessimo 4 stanze anziché 3 ci va male lo stesso ma se ne avessimo tante di più allora voglio capire se c'è un baco oppure è normale allora metto molte più stanze sì ha un effetto quindi a questo punto possiamo giocare con i tempi con i time out con le probabilità tutto ciò che abbiamo quindi l'impostazione del simulatore c'è e a questo punto possiamo cominciare a usarlo per avere delle risposte rispetto a questo modello domande? 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 che avete creato ma non ci dobbiamo spaventare no? perché alla fine come abbiamo visto si ragiona un pezzo per volta cioè per questo evento se l'evento è questo e se il paziente era in questo caso cosa devo fare? e allora lo sposto da una coda all'altra gli cambio lo stato cosettine in cui lavoriamo diciamo così quasi per compartimenti stagni in ogni sotto caso mi chiedo cosa devo fare e lo faccio la parte più difficile di questo esercizio secondo me era questo disegno fatto questo e se siamo fortunati di farlo giusto e questo non è proprio giusto giusto perché ci siamo pentiti tante volte di avere tre stati diversi per il waiting ma se uno fatto questo è fatto giusto il resto è solo fatica che non viene gratis ma non è concettualmente difficile quindi cerchiamo di concentrarci bene sullo stato qual è stato e qual è evento e come evolvono ok? buona serata grazie a tutti grazie a tutti